Questo sito va collocato in un posto dove c'è un forte problema di rifiuti e collocare un centro di raccolta in un'area dove c'è un forte problema di rifiuti significa spostare parte dei problemi che stanno nelle strade ad una situazione di regolarità perché delle persone troveranno molto più utile farsi un minuto di fila magari per entrare un centro di raccolta piuttosto che lasciare in mezzo alla strada dei rifiuti così abbandonati per cui io credo che forse questo sia uno dei posti più indicati per mettere un centro di raccolta dove mettiamo un presidio AMA in un posto che è un po' abbandonato per cui ci sembrano non corrette queste analisi che vengono fatte da Fratelli d'Italia perché questo forse è proprio uno dei siti migliori dove andare a collocare un centro di raccolta perché andiamo a risolvere un problema dove ci sono i rifiuti in mezzo alle strade e così i cittadini lo portano all'interno del centro di raccolta piuttosto che lasciando in mezzo alla strada per cui noi a questo emendamento la maggioranza voterà no. Grazie Presidente.